ultimamente tutti i flexano con le armi finte, la prossima volta ti prendi una banana tanto non spara né la tua né la banana, fai boom boom boom, fai il figo stop, no queste scaccia che hai, ma dai io sono contro la violenza, fai un cuore la violenza ho risolto un cazzo con la violenza alla fine della giornata, quindi boom boom bici disclaimer eh, se vedete queste storie in qualche video che dice mambo dissa vi sbagliate alla grande riflessione personale, se devo dissare qualcuno l'indirizzo, quel biff va indirizzato non ci devi girare intorno, devi dire con chi ce l'hai non devi fare il vago, se no si bici quindi ho detto tutto questo ho chiuso la parentesi, cosa sa io tutto cazzo sono fresco ma non c'è più competition eh andate a farvi la chirurgia plastica, scippopedi grazie a tutti